Ciao ragazzi, oggi sono incazzato nero, come credo di non essere mai stato così incazzato per un avvenimento calcistico. Questo perché da sempre vivi il calcio con passione, ma anche con distacco e leggerezza, perché penso che già ognuno di noi abbia mille cazzi per la testa, che ci manca solo incazzarsi per il calcio, e invece oggi vado contro questo mio limite che mi sono imposto e sono tremendamente incazzato per la vicenda, per lo scandalo, per lo schifo che è successo tra Donna Rumma e il Milan e il Raiola. Oltre ad essere nervoso, sono anche tremendamente deluso, e la delusione è uno stato d'animo molto più bastardo rispetto all'incazzatura, perché l'incazzatura passa. L'incazzatura, tu ti siedi, prendi un sorso d'acqua, fai un lungo respiro, guardi qualche foto della leotta e l'incazzatura passa. La delusione invece è molto molto più grave. Entra dentro di te e macina, 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 a maggior ragione che la delusione in questo caso viene da Donna Rumma, e non dal primo pirla qualsiasi. Donna Rumma, che ricordiamolo, ha sempre detto di tifare Milan, ha sempre detto di volere un futuro nel Milan, ha sempre baciato lo scudetto, ogni domenica baciava lo scudetto della sua maglia del Milan, lo stesso calciatore che oggi ha chiesto alla società di essere ceduto. Perché, in poche parole, ha chiesto questo. Non si tratta solo di non voler rinnovare il contratto, si tratta di aver chiesto di essere ceduto. Perché uno che non vuole rinnovare il contratto in scadenza fra un anno, uno che non vuole rinnovarlo, è come se dicesse Milan, vendimi. E' questo che ha detto. Perché, giustamente, se lui non vuole rinnovare, e il Milan non vuole perderlo a parametro zero, cosa deve fare? Deve venderlo. E' l'unico modo per cercare di guadagnarci qualcosa. Quindi, questa situazione, ragazzi, secondo me, è una delle più scandalose che sia successo nel mondo del calcio negli ultimi anni. E' una delle scelte più idiote in assoluto. Perché, ditemi, se è normale, che un calciatore che non ha problemi con la società, che non ha problemi con i compagni, che non ha problemi col mister, decida di non rinnovare un contratto con la propria squadra del cuore che ti offre non 100 euro al mese, ma 5 milioni di euro all'anno. Ditemi voi se è logica una roba del genere. Secondo me non è logico. Come diceva Malesani, cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo. Aveva ragione. Aveva ragione. E' uno schifo. Ormai è tutto uno schifo, ragazzi. E' assurda. Questo rifiuto del contratto è un insulto al Milan. E' un insulto al calcio. E' un insulto alla vita. E' un insulto al buonsenso. E' assurdo che un calciatore si faccia manipolare come un burattino, in questo caso da Raiola. Da un manager senza scrupoli. Perché ragazzi, tutti lo fanno per i soldi, giustamente. Ogni manager fa gli interessi del proprio assistito e i propri interessi. Ma in questo caso io ho la sensazione che Raiola abbia veramente sfruttato Donnarumma, lo abbia, non lo so, plagiato, lo abbia rincoglionito, lo abbia drogato. Non lo so. Non è normale una roba del genere. Cioè, consigliando a Donnarumma di andare via dal Milan, lo ha distrutto anche a livello di immagine. Ma che figura di merda ha fatto Donnarumma? Non solo con i tifosi del Milan, ma con tutto il mondo del calcio. Ha 18 anni a rifiutare un contratto del genere. In una squadra con una società nuova che sta dimostrando di voler fare le cose per bene. Cioè, secondo me questa scelta qua non ha né testa né coda. Non si capisce. Non si capisce. Io gli auguro a Donnarumma di, innanzitutto, di non ricredersi perché personalmente non lo voglio più vedere nel Milan. Non lo voglio. C'è chi dice eh Dani ma non è una cosa ufficiale magari si cambia idea. Ragazzi, no. Ormai i rapporti di Illiaco che si era creato tra il Milan e Donnarumma si è rovinato. Si è rovinato. Può anche tornare. Può anche firmare fino al 2055. Ormai si è rovinato. E l'ha voluto solo lui. Ma non da ora. Già dall'inizio nell'aver scelto Raiola come manager. Già lì c'era qualcosa che non andava.